Musica Vicino a me Francesco Bocchicchio, premio Nino Ferri Fail Player nello Sport 2015 Volevo chiederti appunto che cosa pensi dello sport attuale e che cosa pensi dello sport in generale? Lo sport è movimento, è vita, io ho 70 anni e sono 50 anni che ormai bazzico a livello di attività giovanile Ho cominciato da solo, sto andando avanti con altri che hanno fatto quando erano giovanissimi L'attività giovanile con me in pratica, adesso faccio un po' da supervisore Oltretutto mi dedico, faccio circa 10 km, un giorno sì e un giorno no Perché ci tengo a mantenermi, devo dire la frase, per poter essere di aiuto agli altri Perché continuo a star vicino ai ragazzi Lo sport è movimento, è vita, è scuola calcio, non solo, è scuola, non dico altro Per quanto riguarda il tuo intervento oggi qui nell'incontro Che cosa pensi più in profondità del razzismo, di tutto ciò che avviene nel calcio e soprattutto negli stadi? Il razzismo c'è ancora, io ho citato che molto probabilmente c'è ancora qualcosa a livello di vertici nazionali Non c'è proprio il consenso di liberare, di libertà al razzismo Ma ancora una certa accettazione soft, la vedo, l'avverto Per esempio quando c'è da punire una curva, non bisogna poi tornare indietro Se punisci la curva perché un diffuso da quella parte ha lanciato la banana Va chiuso non solo la curva ma chiaramente va chiuso proprio lo stadio Perché obiettivamente insomma non si potrà mai pensare che altri non lo possono fare Allora è chiaro che è un fatto culturale, è tutto un fatto culturale Ci sono pregiudizi, qualcuno se li porta a presso E qualcosa insomma va cambiato, modificato, solo con l'esempio Con l'esempio non c'è altro da fare Puoi fare tutti i discorsi che si fanno solitamente nello spogliatoio Poi alla fine esci dallo spogliatoio e si parte appunto da qua A tal proposito il messaggio ai giovani, ai tutti i giovani sportivi E soprattutto a tutti i giovani calciatori che oggi del calcio ne fanno uno stile di vita Certo, Roberto Sabeto è uno di quelli C'è il fratello che sta con la Vibonese nello stesso girone Fra pochi si incontreranno, non ho detto scontreranno perché altrimenti già Beh l'importante è che sia comunque uno scontro piacevole Che già uno scontro presume momenti bellici e imbrati che sotto questo aspetto Proprio perché anche diciamo così nell'incontro è chiaro che è quello che deve venire fuori Insomma alla fine l'accettazione dell'eventuale sconfitta Io preferisco quei ragazzi, lo dico sempre, una sconfitta pulita a una vittoria a Barando Grazie Benvenuti a questa nuova puntata di In Campo con la D, TG7 Basilicata Abbiamo appena visto l'intervista a Francesco Bocchicchio Premiato con il premio Nino Ferri per Play Che era un grande dello sport potentino E in studio con noi c'è un'altra grande gloria della Vultur E però dovremmo dire figlio d'arte perché è Rino Corona qui con noi E figlio di Pasquale Corona a cui lo stadio di Rio Nero è dedicato E non poteva che essere così, non poteva essere altrimenti perché è stata forse la persona Che più di altri ha dato molto a questa squadra, alla Vultur Formando giovani, promesse, meno promesse Fra cui vando anche io una tessera degli anni 70 Con la mia generazione, comunque dei nomi che sono anche usciti di livello Penso a Claudio Cratere che non c'è più con noi E che ha fatto anche la quarta serie in quegli anni successivi appunto negli anni 80 Per cui Pasquale Corona ha dato molto, è stata una figura emblematica per questa città Ma non soltanto per lo sport, Rino, tu hai fatto questo libro straordinario La storia dello sport Rio Nero 1800-2010 E uscì in occasione del centenario della nascita di tuo padre Cos'è stato Pasquale Corona? Beh così su due piedi E' difficile poter tracciare Diciamo Un quadro o una sintesi di papà amatissimo Pasquale L'hai detto tu Certamente Pasquale Corona è stata una reggenda Ed è ancora oggi una reggenda per lo sport rionerese In quanto a prescindere Ha partecipato in giovani età Ha già 15-16 anni Ai primi convegni atletici lucani Che si svolsero a Rio Nero Al vecchio campetto delle Forche Dove attualmente sorge Il centro sociale Intestato a Pasquale Sacco Ma anche dopo Dopo la seconda guerra mondiale E chiaramente insieme ad altri amici Che voglio ricordare Ai compianti Professor Antonio Masucci E al dottor Michele Labella Scomparsi comunque di recente Ebbero l'idea di incominciare a togliere i ragazzini Dalle strade E portarli al campo Vedere un po' di organizzare delle squadrette Con questi famosi puccini E i boys E se di lì è partita Il calcio vero Diciamo rionerese Dopo Ecco Il secondo conflitto mondiale Nel 46-47 Pasquale Corona Ha dedicato una vita Allo sport Non voglio essere io Che sono il figlio L'unico figlio unico A ricordare Chiaramente Le gesta sportive Di Pasquale Corona Quindi grande organizzatore Ma soprattutto sportivo Perché ha fatto molti sport Parlavamo di sci A Roccaraso Insomma Quindi quella generazione Ha frequentato anche altre discipline Sì certo Discipline alle quali tu hai fatto cenno Lo sci Il ciclismo La box Tant'è vero che il circo sportivo Voltur E' nato nel 1921 Che poi guarda caso Guarda caso L'ha fondato mio nonno Mauro Era presidente Quindi anche del circo sportivo Voltur Negli anni 21-22-23-24 Che insieme appunto Al compianto amatissimo Alfredo Viviani Naturalmente Ecco Hanno organizzato A rionero I primi convegni A 13 come dicevo E quindi C'era una Per intanto Una passione sfrenata Per lo sport Specialmente in quegli anni Negli anni Negli anni 30 soprattutto In cui i giovani Venivano Così tolti Dalla strada Un effetto didattico E diciamo anche Sociale Economico Per certi aspetti Ma soprattutto Penso sociale Perché Pensiamo Parliamo di 80 Non quasi 85 anni fa Quando i ragazzi Andavano alle botteghe artigiane O Andavano a lavorare Nei campi E quindi Al rientro Loro con estrema passione Frequentavano La sede sociale Del ciclo sportivo Anticamente vicino Alla Chiesa madre In Amedio di Savoia Laddove Dentro Riunendosi Si esercitavano Per esempio Al pugilato Con guantoni Rudimentali Oppure Si esercitavano Alle parallele Agli anelli Con la ginnastica Ed altri Si dedicavano Per esempio Come dicevamo Al ciclismo Allo sci Alla caccia Per quanto riguarda Almeno Le certe Per quanto riguarda Almeno le categorie Sociali Un po' più Abbienti Questa cittadina Ai piedi del vultore Ha sfornato Dicevamo Anche nella precedente Puntata Dei talenti Anche in varie discipline Un rionerese Partito Credo Quindi è mancato Qualcosa Negli ultimi anni Rino Ma io credo Che Forse Negli ultimi 20 anni Ecco È venuto Meno Quell'attaccamento Al Proprio Alla Pratica Sportiva Venendo Meno L'attaccamento Alla pratica Sportiva È chiaro Che si vanno A sfaldare Alcuni Valori Alcuni Diciamo Alcuni elementi No Che contraddistinguono Una Due Tre Generazioni E forse Subentrato L'eccesso Di Appartenenza Cioè La non più Appartenenza Ma quanto più L'attaccamento Ai contratti A fare soldi Beh In un certo qual modo Certamente sì Anche La tecnologia No La televisione Parliamo di Telefoni Cellulari Questo Comunque Questi strumenti Hanno comunque Fatto Un po' Perdere Si è verificato Una sorta di divismo Nei confronti Del Non che prima Non ci fosse Però adesso Sembra proprio Più esageratamente Marcato Più esagerato Come di bene Dici Quando dici Esageratamente Marcato Perché Forse i giovani Hanno solo L'illusione Di poter raggiungere Una meta Un obiettivo Senza Sacrifici Senza impegno Senza passione Senza entusiasmo Così facilmente Poter fare Diciamo Danaro Come suol dirsi No In maniera Molto 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 leggera E allora Sono Come dire Attirati Proprio all'intera Posta in palio Nonostante La aperta Dichiarazione D'amore Con i tifosi Applauditi Prima e dopo Della gara Da un gruppo Di giocatori Che a questo punto Sembra essere Un'entità A parte Rispetto a quella Della società Le scelte Le scelte di Pirozzi Sono scontate Inevitabili Tridente con Forgione Terminale centrale Todino e Apicella Ai suoi lati Per il resto La formazione È la stessa Che ha perso Annocera Che deve fare A meno di Villa Squalificato Pepe e Proietti Infortunati Altri disponibili Non ce ne sono più E disqualificati Lanzio ne ha due Il difensore esterno Yvon Il centrocampista Centrale De Vivo D'Agostino Noschiera L'ex Miocchi E mischia le carte Rispetto alle previsioni Della vigilia Presentandosi Con un 4-1 4-1 In fase di non possesso palla Che crea molta densità In mezzo al campo Lì dove il potenza Ha qualche difficoltà Supplementare A trovare il barco giusto Due occasioni Praticamente in fotocopia Nei primi minuti Entrambe frutto Di una percussione Dalla corsia laterale Nel primo caso Era Todino A cercare Forgione Il cui tocco Veniva deviato Da un difensore Sfiorava il palo Dall'altro lato Da Giampaolo A Bernardotto Diagonale analogo E deviazione providenziale Di Ungaro Al ventiseiesimo E Apicella A sfiorare il vantaggio Con una girata al volo Dopo l'assist di Forgione Ma a passare in vantaggio E la squadra ospite Con il rigore di Ferrari Procurato dalla caparbietà Di Bernardotto A difendere un pallone vagante E a calciarlo Sul braccio di Guarino Era il trentaduesimo L'ansio sfrutta La manna dal cielo Del vantaggio Approfitta Della scarsa lucidità Del potenza E spinge il match Verso il finale Del tempo In cui però è fatale La distrezione difensiva E sempre sull'out di sinistra Che Todino Trova lo spazio Giusto per l'assist A Forgione Che in due tempi Dopo aver colto il palo Con la prima battuta Batte Rizzaro Tutto proprio sul filo Di lana del tempo Nel primo e unico Minuto di recupero E questa volta La manna dal cielo E per la squadra di Pirozzi Che sembra uscire Dallo spogliatoio Con un altro animo Dopo un primo tempo A tratti opaco E durante il quale Non pareva nemmeno Un'eresia Vedere i laziali Avanti di un gol Il primo tentativo È infatti di Esposito Con un tiro dalla distanza Ma la distrazione Del reparto difensivo Su un corner di Ferrari È deleteria Pucino appoggia in rete Senza nessun controllo Al dodicesimo I padroni di casa Perdono lucidità Dalla panchina Pirozzi può poco E Lanzio decide anche Di speculare sul vantaggio Perdendo tempo In ogni occasione Manca il guizzo Il potenza ci prova Con il cuore E prende d'assalto Lanzio Trovando il pareggio Ancora con Forgione Di testa Sugli sviluppi Di un calcio d'angolo Ma è troppo tardi Gli ultimi minuti Non sono un assalto Alla porta laziale Anzi gli ospiti Controllano la sfuriata E portano a casa Un pareggio pesantissimo Adesso inizia Tutta un'altra storia Dal sapore burocratico Il passaggio di società Entro questa settimana Va deciso In un senso O nell'altro Invece venendo ad oggi La Vultur Mi sembra ben costruita Ben diretta Come società Ben strutturata E sta dando risultati Quanto meno Siamo felicemente Attratti Dal vederla Nella parte sinistra Della classifica Che la domenica Ci viene proposta Quindi Sta nascendo Sta partendo Con i piedi giusti A proposito di piedi Beh Io sto seguendo Appunto La squadra Locale Con vivo interesse Chiaramente E forse con Quell'ansia Che da vecchio Ex calciatore Della Vultur E quindi Anche Da vecchio Sportivo E dirigente Della Vultur Anni addietro Mi porta A seguire Forse la squadra Con un po' Di partigianeria Però Io Devo felicemente Devo felicemente Constatare Che L'allenatore Ovviamente Esperto Maturo Come Sosa Roberto Sosa Chiaramente Sta lavorando In maniera Igreggia Ed i risultati Gli stanno dando Ragione Quindi In rapporto A quello che stiamo vedendo È ovvio Almeno a Rio Nero O fuori Negli incontri Disputati Finora Si nota che Il CS Vultur Ha comunque Una quadratura Di squadra E ha un gioco Estremamente Proficuo Perché Poggia Secondo il mio Modesto parere Molto Sullo Centrocampo E le partite In effetti Di calcio Si vincono Soprattutto A centrocampo Sia ai tuoi tempi Che oggi Ma è così Il calcio Certo Il pallone Non è che Che ha Delle teorie O delle bacchette magiche Però Parlavamo L'altra volta Con Figerazzi Prima c'era più L'aspetto Tecnico Curato anche Dei talenti Adesso è più Gioco di squadra Voglio dire Certo È più gioco di squadra Tant'è Che anche se Tolti Tolti Con la T Maiuscolo Che i talenti Che tu Parlavi Poc'anzi Ma di talenti Veri Oggi Nel calcio Ne sono pochissimi E dobbiamo citare Qualche caso Per renderci conto Un Messi Un Cristiano Ronaldo Un Un Di Bala Se vogliamo Attualmente Nella Juve Un Neymar Nel Barcellona O qualche altro Ma a livello A livello locale Anche come serie Come serie D Campionati nazionali Ormai Sì Ormai c'è Quello che conta Il collettivo Cioè ci vuole Un'estrema amalgama E un affiatamento Straordinario Per poter portare avanti Un discorso Che tenda A un obiettivo Comune Cioè quello Nel caso migliore Della Calciatore Comunque E quello di Difendere Fino alla fine I propri colori Sociali Don Pasquale Corona sarebbe felice Soddisfatto di questa squadra Oggi Beh io Penso di sì Anche se lui Avrebbe puntato di più Sui giovani Locali Lui aveva Il pallino Per dirla Così Con un sostantivo Comune Il pallino Dei giovani Nostrani E tant'è Che le sue generazioni Si sono comunque Di calciatore Ovviamente In 40 40 anni Passa Si sono sempre Messi in evidenza Facendo anche parte Di rappresentative Lucane No? Nel settore Nel settore calcio Con la promozione O dopo Con l'eccellenza Ci teneva moltissimo Ai giovani Ma ci teneva moltissimo Anche Soprattutto Ai giovani Che vedeva Li Li Avviava per esempio Alla pratica Sportiva In senso lato Alla ginnastica Per esempio Lui amava la ginnastica Era velocista Quindi Centometrista E voleva Che ogni volta Un giovane Come notava Chiaramente Girando per il paese Come era Era suo solito Come notava Qualche ragazzo Nel salto O nel lancio Di una pietra Lui Colleva Quel Quel quid Che gli permetteva Di Subito Di puntare Su quel ragazzo Addirittura Dal tuo libro Vediamo Uno scalatore Lucano Michele Cicchiello Addirittura Questa disciplina In questo luogo Che è un luogo Di montagna Ma sicuramente Non è un luogo Da scalatori Non è un luogo Di scalatore Ma è stato Un luogo Di Voglio dire Di Amanti Della Della natura In primo luogo E poi amanti Delle alture Perché se pensiamo Forse uno dei primi A Rio Nero Fu il senatore Giustino Fortunato Ha fondato il CAI Ha fondato il CAI Che è il club alpino italiano Quindi E di fatti Si tenevano molti incontri All'epoca Negli anni 30 40 Con il club alpino Di Napoli Soprattutto Perché Fortunato Quindi stava a Napoli Quindi si creava Questa simbiosi Anche nel rapporto Così sportiva Fra Napoli E Rio Nero Insomma una città Che ha sfornato In questo secolo Appunto che tu racconti Brillantemente Con questo testo Ha sfornato Talenti In diverse discipline Dicevamo prima Poi è venuto Una sorta di black out Forse il solco E dal terremoto in poi Dagli anni 80 in poi Penso proprio di sì Che dagli anni 80 in poi Sono adesso diciamo Le migrazioni pure Molti ragazzi Andati via Certo Anche molti ragazzi Ma sono andati via E stanno andando via E questo preoccupa Soprattutto questo Deve preoccupare oggi In prospettiva futura Perché I nostri paesi Dobbiamo dirlo amaramente Constatare Che si stanno spopolando Quindi Don Pasquale Il grande vecchio Come lo chiamavamo Se si aggirasse oggi Per l'estate di Rio Nero Non troverrebbe più bambini Correre e giocare Con un pallone Nei quartieri Certo Cambiano i tempi Cambiano i tempi E sarebbe come Una mosca bianca Trovare Oggi ragazzini Che giocano in mezzo Alla strada Non ce ne sono più Non dimentichiamo Che Anni addietro La strada Era Era La maestra Per quanto riguardava Di vita Come si dice Maestra di vita E quindi Tutto si involgeva Nella strada Nel quartiere Che oggi Non esiste più La settima giornata Del campionato Di Serie D Girone H È stata una giornata Ricca di gol E di tanti risultati Fuori pronostico Il più eclatante È stato il pari interno Della capolista Gravina Contro il Picerno Per 1 a 1 I gravinesi Con questo inatteso pari Rallentano la propria corsa Favorendo le dirette Inseguitrici Tra Stevere E Ercolaneum Che si portano Rispettivamente A meno 1 E meno 3 Dalla capolista I romani Si imbongono Per 2 a 1 Nel match interno Contro l'Agropoli Mentre i campani Con un bel 2 a 0 Espugnano Francavilla Sussinni Inguaiando La squadra Rosso-Blu Del presidente Cupparo Seguono poi Potenza E Nocerina Entrambe Distanti 4 punti Dalla vetta I leoni Potendini Non vanno però Oltre il 2 a 2 Interno Contro l'Ansio Mentre i mollossi Campani Espugnano Nardò Con un perendorio E convincente 3 a 1 Si assesta Nelle zone alte Classifica A quota 10 punti Un terzetto Di tutto rispetto Formato da Vulto Rionero Sansevero E Biceglie I rioneresi Conquistano Un paro importante Per 1 a 1 Sul campo Della Gelbison E Sansevero Tra le mura Amica Si impone Per 3 a 1 Sul Ciampino Mentre il Biceglie Esce sconfitto Per 2 a 1 Dal Miramare Di Manfredonia Seguono il Nardò A quota 9 punti Come già detto Sconfitto in casa Dalla Nocerina E la Gelbison A 8 punti Che come sappiamo Non va oltre il paro interno Per 1 a 1 Contro la Vultorio Nero Manfredonia Francavilla E Ciampino Stazionano A quota 7 punti I pugliesi Si impongono 2 a 1 Sul Biceglie I sinnici Come già detto Pocanzi Vengono sconfitti In casa Per 2 a 0 Dall'Ercolaneum Mentre il Ciampino Cade per 3 a 1 A Sansevero 6 punti Per Picerno E Anzio Le quali strappano Entrambe Un bar in trasferta Contro rispettivamente Gravina Per 1 a 1 E Potenza Per 2 a 2 5 punti Per il Cinzia Che impatta In casa Per 2 a 2 Contro il Fanalino Madre Pietra Daoni A Pricina Con i pugliesi Che con 4 punti All'attivo Chiudono la classifica Assieme all'Agropoli Sconfitto a Trastevere Dopo 7 giornate Quindi La classifica Alla seguente Guida il Gravina Con 17 punti Seguito da Trastevere A 16 E Ercolaneum A 14 Potenza E Nocerina Sono appaiate A 13 punti 10 punti Invece Per Vultuglio Nero Sansevero E Bicelli A quota 9 Troviamo il Nardò Seguito dalla Gelbison Che di punti Ne ha 8 7 punti Per Manfredonia Francavilla E Ciampino E 6 invece Peranzio e Picerno Seguiti dal Cinzia A quota 5 Chiudono la classifica Il Madre Pietra Daonia E l'Agropoli Entrambe a 4 punti Poi Rino Corona Ha preso anche altre strade Dopo il pallone Con gli studi a Napoli L'insegnamento di lingue E ha avuto Una inclinazione Verso il teatro E' stato uno dei primi A fare Beckett A Rionero Insieme a Enrico Sacco Diretti da Pasqualino Plastino Che oggi Scrive sceneggiature Insieme a Carlo Verdone Quindi Un talento anche in questo senso Ci sono state anche delle Emersioni In altri ambiti Appunto Non soltanto calcistico Sportivo Ma anche Quello artistico Teatrale in questo caso Rionero E quindi anche la figura Di tuo padre Era anche dietro A questi movimenti Ma certo Era dietro A questi movimenti Io ti ringrazio Per il talento Che hai detto Ma non credo Beckettianamente Ma diciamo A livello amatoriale Comunque Certo che Pasquale Corona Seguiva con interesse Anche i fenomeni Ecco Ad ampio raggio Come in questo caso Per esempio Poteva essere il teatro Oppure manifestazioni Organizzazioni Di eventi Di una certa importanza Non a caso Lui fu uno dei primi Insieme ad altri Nel 1931 A far parte Della filodrammatica Vulture Che recitava E quindi Rappresentavano Dei lavori Al teatro Combattenti Quindi ecco Su quella scia Lui seguiva Io Certo E' una passione Che mi porto Dietro Dopo gli studi Non a Napoli Ma a Bari A dire la verità Quindi poi Vabbè Ho insegnato Per 36 anni Lingua inglese Nelle scuole superiori Chiaramente Di più Gli anni A Rio Nero Qui Mi era comodo Stare Stare a Rio Nero Però ho praticato Per un vendegno La caccia Quindi prendendo Da mio padre E prendendo Da mio nonno E poi Ho Quando Quando stavo Per Chiudere Quasi Con la caccia Quasi E allora Poi Ho incominciato Anche con il teatro Con vecchi amici E fondammo Fra Diciamo Un gruppo Che ancora oggi E' sulla breccia Il gruppo 8 Che ha fatto Veramente Parliamo Nato Nel 1977 Quindi Parliamo Del primo gruppo Uno dei primi Gruppi In Basilicata A fare Promozione Teatrale Nelle scuole Negli ambiti Nelle fabbriche No? E in altri Insomma Rio Nero E' stata Una piccola Capitale Non soltanto Nell'area Ma un punto Di riferimento A livello Quanto meno Regionale Sano addirittura Nei confini Nelle regioni Confinanti Poi c'è stata La granna neta Quindi c'è stata Una sorta di stacco Dicevo prima Di black out Ci sono i presupposti Per riprendere Oppure non vedi nulla Non ci sono più I corona I pasquali corona Non ci sono più I colori che vanno A scovare talenti Non c'è più nulla Di tutto questo Dicevi appunto Prima L'emigrazione Fa il resto Nel senso che i ragazzi Vanno via Studiano fuori E non tornano più Certo E' una domanda Molto difficile Trovare una risposta Esauriente Lascia il tempo Che vuole Perché Pensare Certo La speranza E' sempre quella Che ci possano essere E possano arrivare Comunque Quanto prima Un po' Tempi migliori Però In prospettiva Quando Una regione Come la Basilicata Che è già Bistrattata Umiliata Da secoli Come Io mettevo E sottolineavo Anche Nel Un altro testo I dialoghi della miseria Che E' stata Riportata in auge Con la parata Di briganti Ultimamente Fatta nel centro storico Di rio nero E' difficile Pensare a tempi Che Che possano dare Qualcosa La speranza E' viva Cioè che qualche cosa Possa cambiare Però Con i giovani Soprattutto Quelli che Costituiscono La 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 forza Trainante L'entusiasmo L'energia Per portare avanti I discorsi nuovi Purtroppo Non ce ne sono Perché la maggior parte Io vedo Un'esperienza Mia personale Mio figlio Per caso Da tre anni Lavora Si è trovato a Malta E lavora a Malta Ma come me Arrio nero No? Di figli E di ragazzi Sono tutti fuori Perché la maggior parte Anche studiando All'università Del resto Trovano Se trovano poi Un impiego Un lavoro Si fermano fuori E non ritornano In paese Intanto ci godiamo Questa bella esperienza Della Vultur Che sta dando soddisfazione I tifosi E un pubblico così Ce lo invidiano Dicevo L'altra volta Ovunque Perché è un pubblico Che segue da sempre Nella buona Nella cattiva sorte Appunto questo amore Questo contratto Non scritto Fra la squadra E il suo pubblico Quindi È fondamentale questo Che quantomeno La domenica Ci si ritrova a vedere Del buon calcio Questa Vultur Sta offrendo Del buon calcio Sicuramente Sì Lo ripeto Ancora E con enorme gioia Che io Domenicalmente Devo Devo constatare Che la squadra Si sta comportando Veramente bene E che quindi Colganzi L'occasione Per augurare Tutto lo staff Tecnico Ai giocatori All'allenatore Sosa Al direttore sportivo Calasso Al presidente Di Pierri Auguro veramente Rusinghiere successi Ad mai ora sempre Come dicevano Gli antichi romani Come avrebbe detto Don Pasquale Certamente Grazie Buonasera a tutti Siamo a Filiano Per l'incontro L'etica del calcio Tra competizione Solidarietà E razzismo Qui con me Ho il giocatore Del vitalba Filiano Laminì A cui volevo chiedere La tua esperienza In Italia E soprattutto La tua esperienza Adesso Nel vitalba Filiano Grazie a tutti Sono giocatore Di filiano Da vitalba Sono qui Tre settimane Ora La mia esperienza È più bella Perché Sono con La squadra Che mi piace Perché i giocatori Tutti bravi Le staff Tutti bravi Sono contento Qua Siamo In campionato Difficile Per noi Ma Stiamo lavorando Bene bene Così Per salvare La squadra E Pre stifosi Sono bravi Stanno aiutando Per la squadra Così Pure Il campionato È più lungo Ancora Così Devono Ancora Dare più Mani Di squadra Il tuo sogno Il tuo sogno Nel cassetto Il sogno Di ogni calciatore In quale squadra Vorresti giocare Io La mia squadra La mia squadra La mia squadra Sì 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 Grazie di essere stato qui stasera E grazie di avermi concesso con l'intervista Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.